Come fai ad avere due tette così grandi se non hanno ancora inventato i chirurghi plastici? Cosa sono i chirurghi plastici? Cerchi un canale caramellosamente divertente? Puoi scommetterci una confezione di aletti di pollo maxi, papo? La ricerca è finita! Electric Peo è il canale giustino! Guarda, ho trovato il canale più bello di sempre! Si chiama Electric Peo! Chi è Electric Peo? Salve i polletti! Sono Dottor Peo! Un illustratore, fumetista, animatore e tanto altro! Che lavora attivamente anche con i mates! I disegni del milione di Stepney, Surreal Power e Anima e disegni per le loro magliette! Clicca e iscriviti al canale più scorretto! Macio! Che c***o fai? Sexy! Bellissima principessa con due tette gigantesche! Demenziale! E' gratis!